Su Instant Gaming trovate già il pass all'espansione di Pokémon Spada e Scudo a solamente 25,99€ e Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX a 47,99€, link in descrizione. Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX uscirà su Nintendo Switch il prossimo 6 marzo e come ben sappiamo si tratta del remake di due titoli usciti davvero tantissimi anni fa su Game Boy Advance e Nintendo DS. Nonostante il titolo in questione rimanga fedelissimo alla trama dei due giochi, Spike Chansoft ha voluto sviluppare il gameplay rendendolo molto più simile al precedente Super Mystery Dungeon uscito nel 2013 su Nintendo 3DS. Oltre ad aver aggiunto le mega evoluzioni e le forme archeoli svegate, il team di sviluppo ha voluto inserire nel gioco alcuni Pokémon non presenti nella versione originale. Con un datamine si sarebbero infatti scoperti i nuovi Pokémon inseriti nel gioco che sarebbero Riolu e Lucario Possiamo renderci conto di come tutti questi Pokémon vadano a completare una linea evolutiva di un Pokémon presente in una delle prime tre generazioni. Possiamo quindi aspettarci di non vedere tutti i Pokémon all'interno di questo titolo, similmente a Pokémon Spada e Pokémon Scudo. E questo magari in vista di un remake anche dell'amatissimo Pokémon Mystery Dungeon Esploratori del Tempo, Oscurità e Cielo. Infine vi dico anche che in Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX ci saranno anche i Pokémon cromatici, che saranno reclutabili come un qualsiasi altro Pokémon all'interno di un dungeon. Detto questo, aspettate con ansia questo titolo? Il 6 marzo si avvicina sempre di più e io non vedo l'ora di mettere mano su questo remake. E vi ricordo tra l'altro che su Istan Gaming lo trovate in formato digitale a 47,99€ anziché 60,99€. link in descrizione. Comunque sia, qui da Diego per oggi è davvero tutto e noi ovviamente ci vediamo in un prossimo video. Ciao allenatori! Ciao! 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 Grazie per la visione!